ciao ragazzi bentornati sul canale di fumetti fatti sono angelo sul futuro oggi parleremo della della batch e soprattutto del 140 cioè di come si modifica il vecchio broli str a livello 140 e capiremo se vale la pena per chi non ha ancora investito la stone rossa se prenderlo meno innanzitutto per gli utenti jump oggi è apparsa questa batch dove chiaramente è in retapp il broli vecchio e hanno inserito goku blu kaioken che di cui non ne capisco la presenza forse soltanto per tra virgolette aiutarvi durante il combattimento contro di lui visto che comunque gli agl saranno avvantaggiati e infatti per questo motivo hanno inserito anche vegeto super se un 4 e ragazzi il fatto che ci sia vegeto super se un 4 per chi di voi non è mai riuscito a prenderlo prima può essere interessante perché alla fine in questa batch ci sono soltanto questi tre pg in retapp la possibilità di trovare ssr è sempre quella del 10 per cento di cui 5 per cento uno di questi tre pg quindi diciamo che c'è una media del 1,3 periodico di trovare uno di questi pg che può essere interessante può essere interessante specialmente per vegeta gli altri due un po meno anche perché broli come abbiamo detto più volte si può prendere anche con la stone rossa sicuramente se siete interessati a prenderlo per portarlo diciamo a una certa biti e non avete la lr ci si può anche investire qualche così almeno forse riuscite a trovare anche vegeta questa questa diciamo la mia opinione sulla bacia che potrebbe essere evitabile ma se siete interessati a almeno ai due a cui due pg la può può essere un'alternativa vediamo invece il pg come diventa a livello di stats ecco qua questo è il pg a livello 140 questa è la carta base senza abiti quindi vediamo che il pg a livello 140 come per goku la sua leader cambia e diventa un più tre chi ha hp attacco divisa 70 per cento agli str chiaramente la special cambia a 15 fa sempre la o e quindi quello non è cambiato è cambiato il moltiplicatore c'è un moltiplicatore adesso un po più a un po più alto che comunque oscilla quello del supremo da meggi quindi niente di niente di devastante e subisce un effetto secondario ovvero quando viene lanciata e si aumenta l'attacco per tre turni mentre invece le statistiche questo è diciamo è il pg ad ability free no scusate queste pg a base pg base 12.000 hp no 12.785 hp 11.987 attacco 5.769 di difesa che se avete full ability questo pg aggiungendo i 7.000 di stats che prende perché questo pg qua prende 7.000 di stats siamo davanti comunque a un 19.000 hp 18.987 di attacco e 11.769 di difesa chi non è male 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 non è male 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 però ragazzi rimane sempre una seconda al terza rimane sempre l'alternativa proprio l'alternativa alla lr se avete la lr comunque semmai l'avete puntata questo pg qua lascia il tempo che trova infatti il boost che prende anche nella passiva che finalmente cambia è 80 per cento all'attacco e alla difesa che quantomeno cambia un po il pg cioè nel senso fino fino ad oggi tutti i broli usciti si azzerano la difesa questo quantomeno finalmente è un è un broli che che prova a tancare qualcosa e sicuramente lo fa full ability quello 80 per cento e i suoi 11 mila di difesa si fanno sentire è un bel è un bel tank il problema di questo pg rimane sempre che qui qui link che ha non ne hanno aggiunto nessuno di nuovo e questo è un gran peccato che avessero inserito almeno un prepar for batto long shocking speed quantomeno avrebbe linkato un pochino di più invece hanno lasciato gli stessi link e nel team str farà sempre fatica a meno che non non puntiata a prendere anche il nuovo rosè farà sempre fatica a girare bene non link praticamente con nessuno se non con i personaggi hanno fierce battle come danni non è minimamente paragonabile alle lr questo sicuramente però può essere può essere comunque utile nei prossimi tornei si può sicuramente tornare utile nei prossimi tornei sicuramente se avete più di una copia quell'ottanta per cento di busto quando poi lancia la special se critta e fa fa il suo fa e suo sicuramente comunque rimane una seconda scelta e adesso diciamo il mio consiglio personale se non avete mai pullato questo personaggio valutate bene se se con la son rossa vale la pena prenderlo o meno perché comunque ormai ragazzi tutti i pg della vecchia generazione ovvero goku broli fu po il freezer go an sl è palese che avranno un 140 quindi il mio consiglio spazionato e se vi manca a questo punto se vi manca uno di quei pg in particolare ma a sto punto prendete quello che vi manca perché comunque in ogni caso ognuno di loro verrà modificato e ognuno di loro potrebbe diventare un pg interessante se invece puntate a dare la vita uno dei pg che già avete adesso in questo momento vi potrei dire ok forse è meglio potenziare goku piuttosto che questo broli che alla fine vi tornerà utile soltanto in torneo e se deve fare quello che deve fare lo può fare pure da ability free quello sicuramente ancora oppi anche senza immaginare il 140 e full power freezer e non oso immaginare il 140 di full power freezer cosa potrebbe diventare immagino che per non farlo troppo barato gli aumenteranno la difesa piuttosto che fare un attacco ancora più forte ma staremo a vedere non so forse forse quello sarà veramente uno degli ultimi che potenzialano e che già era troppo rotto quindi sarà forse sarà uno degli ultimi che potenzialano full power freezer sicuramente se non avete mai preso full power freezer e puntate ad avere l'extreme l'extreme fisico come team quello bisogna prenderlo assolutamente senza dover farvi troppe segmentali sui vari 140 che arriveranno e adesso sta per arrivare nel global gohan comunque quindi questo questo video è anche un consiglio per quelli del globa sta per arrivare con str nel global e e presto quindi arriverà anche l'evento per far mai la classe a quindi se per esempio vi manca il gohan int magari per un per un futuro prenderlo non sarebbe male lo prendete ve lo maxate e poi quando andrà 140 sicuramente avrete un pg che non farà schifo questo ragazzi è diciamo il mio parere su sulla carte su chi prendere con la stone rossa per il momento potrebbe cambiare assolutamente questa è variabile è una scelta variabile quindi fate bene la vostra scelta su sul pg da prendere con la stone rossa se non l'avete ancora fatto io stesso non l'ho ancora fatto stavo aspettando che uscisse questa carta per valutare e ho ancora qualche giorno per pensarci devo capire bene se se può tornarmi utile questo broli o se prendo qualcuno di quelli che mi mancano tipo sell sell mi manca non so se prenderlo devo vedere io vi ringrazio della visione ragazzi spero che questo video vi sia stato in quanto in quanto modo utile se lo è stato lasciando un like iscrivetevi al canale io vi do un grosso bacio e ci vediamo a un prossimo video